4, 3, 2, 1, il Novara, il Novara è il campione d'Italia dal lontano 1967 che si aspettava questo scudetto tritolore. Scusateci l'eccitazione ma è da troppo tempo, è da troppo tempo che ci si aspettava questo. Ferrari a posto di Stefano Dallago. Novara ha voluto mettere un difensore ma in questo momento, dopo pochi secondi, dopo pochissimi secondi, 19 secondi, va a segno il Bassano. Marcella passa con la Maria, con la Maria si invola in area avversaria, ancora con la Maria in possesso di palla, ancora Marcella con la Maria, tira con la Maria a rete, ma l'arbitro, l'arbitro, avevamo visto giusto, avevamo... Daricitelli ancora per Milani, ancora Milani in possesso di pallina, tiro di Milani. E c'è l'autorete, c'è l'autorete, peccato, c'è l'autorete di Colamaria. Rimbalza ma l'arbitro fischia un unfallo, battuta la punizione, rete, rete, rete! Erroneamente il Bassano ha battuto la punizione dall'angolo, ne ha approfittato Marcella intuendo il passaggio e va a segno quando mancano 25 secondi il termine del primo tempo. In questo momento è andato a segno Marcella, 2 a 2, risultato Marcella. Ancora Marcella, Marcella in possesso di pallina, c'è poi a Mariotti, Mariotti, Marcella, tira un rete di Marcella! Bellissimo scambio questo del Novara! Riparte in contropiede con Milani, Ricitelli, Bassano, Milani, tiro in rete! Ha segnato Milani, ha segnato Milani, ha segnato Milani, in situazione di contropiede. Ancora Lunec in possesso di pallina, Milani, Milani, tiro, palo, colpito il palo da parte di Milani, ma si impone quasi tanto Ferrari, Milani avversaria, tiro di Ferrari in rete! Rete, 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 rete! 9 secondi, 8 secondi, 7 secondi, tiro di Lunec, stoppato bene a Ferrari, 4, 3, 2, 1, Il Novara, il Novara è campione d'Italia dal lontano 1967, che si aspettava questo Scudetto Tritolore. Scusateci l'eccitazione, ma è da troppo tempo, è da troppo tempo che ci si aspettava questo. Abbiamo sofferto per molti anni, abbiamo incontrato una squadra degna di una finale del Scudetto e il Bassano. Siamo campioni, scusatemi, scusate la mia commozione, siamo campioni. Il Novara è campione d'Italia, Tommaso Coramaria riceve la Coppa del 21esimo Scudetto. Ok, Novara, 2, 3, 9 e 21 Scudetti, 8 Coppa Italia, 3 volte finalista Coppa e Campioni e quest'anno forse riusciremo a prendere anche la Coppa Cers.